Te l'avevo detto! Sei tu il fottuto re del pronostico del calcio italiano? Ogni settimana sfida il mister in carica! Se i tuoi pronostici saranno migliori di tutti gli altri, beh, c***o vincerai il titolo Te l'avevo detto e farai rosicare tutti i tuoi amici! Inoltre potrai bullarti perché il tuo faccione e il tuo nome saranno inseriti nel video della settimana successiva finché qualcuno non farà meglio! Cosa aspetti allora? La partita di questa settimana è Juventus-Napoli! Lo scontro al vertice! Wow! Scrivi un commento a questo video e dimmi 1. Il minuto del primo gol 2. Il nome del primo marcatore 3. Risultato esatto del primo tempo 4. Risultato esatto finale Mi raccomando, scrivi i tuoi pronostici nei commenti del video su YouTube o sulla nostra pagina Facebook In bocca al lupo! E spacca il c***o al mister! E trovi informazioni per calcolare il punteggio e la classifica nella nostra pagina Facebook e nella descrizione del video Te l'avevo detto! E trovi informazioni per caratteristiche in QTSS Grazie.